Anche Pescara si è unita al coro di città italiane che sabato 19 ottobre sono scese in piazza per protestare contro il disegno di legge 1660 che a settembre ha completato il proprio iter alla Camera con l'approvazione della maggioranza dei deputati e che al momento è fermo in Senato dove inizierà a breve la discussione del suo testo fino alla conseguente votazione. Il cosiddetto DDL Sicurezza, primi firmatari Nordio, Crosetto e Piantedosi, esponenti dell'attuale governo Meloni, introduce quello che in molti definiscono lo stato di polizia in Italia perché inaspresce le pene in maniera generalizzata contro chi protesta a diversi livelli formulando nuovi reati ed essendendo sanzioni aggravanti in alcuni casi per reati già esistenti. Il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana è stato da più parti definito così il DDL sulla sicurezza. Il dito è puntato soprattutto sul rapporto di natura intimidativa che viene stabilito da questo disegno di legge tra lo Stato e il cittadino usando il mezzo penale come strumento per dirimere le controversie sociali. Romeo Pasquarelli, coordinatore USB, lavoro privato Abruzzo e Molise. In Piazza Muzzi a Pescara in tanti hanno aderito. Perché questa manifestazione? Per noi questo decreto è liberale e anche molto pericoloso perché ha sia dei tratti molto ideologici ma anche dei tratti contingenti cioè nel senso che la nostra azione sindacale spesso sfocia in proteste dure perché per le condizioni di lavoro, per le condizioni salariali dei lavoratori e allora si vuole impedire di protestare, di richiedere condizioni lavorative migliori addirittura creando una legge che potrebbe condannare chi protesta in quella maniera al carcere e non più a sanzioni pecuniarie. Alla manifestazione promossa da USB e Potere al Popolo hanno aderito Confederazione Cobas, Pescara Chieti, Casa del Popolo, La Conviviale Vasto, l'Associazione Ivoriani e Fratelli del West Africa per il clima fuori dal fossile, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Mediterranea Pescara, Chieti Bene Comune, Deposito dei Segni, Alice Abruzzo, Attac Italia e Forum H2O. Maurizio Arcerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, cosa è che non convince di questo DDL Sicurezza? Tutto, questo è un provvedimento assolutamente antidemocratico e liberale che criminalizza la protesta popolare. Salvini e Meloni si sono presentati per anni come contestatori antisistema, populisti, quelli che davano voce al popolo. Oggi fanno un DDL che serve a zittire il popolo quando protesta, faccio un esempio banalissimo. Tanti anni fa, insieme a Glauco Torlontano, bloccammo la strada insieme ai malati e bambini malati e loro familiari per difendere il reparto di ematologia. Ecco, con il DDL Sicurezza, questa forma di lotta che è normale quando ti stanno chiudendo l'ospedale, quando stanno facendo un impianto inquinante, quando chiudono una fabbrica e i lavoratori protestano, viene criminalizzato e si rischia la galera. Parliamo di 24 nuove pene o inasprimenti di pena, tutti riguardanti la protesta sociale. Questa legge non ha nulla a che fare con la sicurezza delle cittadine e dei cittadini, perché si confezionano norme, sempre nello stesso DDL, per favorire i criminali e i mafiosi rispetto alla confisca dei beni prevista dalle leggi antimafia che abbiamo conquistati nel passato. Oppure si fanno norme per eliminare l'abuso di ufficio, cioè per proteggere i prepotenti, oppure per rendere complicate e brevi le intercettazioni sulla corruzione. Quindi la sicurezza dei cittadini non c'entra niente. Queste sono norme per impedire alle cittadine e ai cittadini di protestare e difendere i propri diritti.